Una cosa non esclude l'altra, intanto ho un'idea in testa che il modulo sia importante ovviamente, ma è sempre interpretazione dei singoli, della squadra che fa differenza, che ovviamente giocare a 5, a 7, a 9 sono sempre i principi di gioco. L'ultima partita ha detto che abbiamo delle difficoltà, la squadra vista nell'ultima uscita non è piaciuta per primo a me, ovviamente anche alla squadra e quindi abbiamo provato a fare qualcos'altro. Il Presidente è la persona con cui parlo di più, il Presidente prima di dirlo a voi l'ha detto a me le cose, per cui io sono diretto di più che il Presidente, qui mi ci ha messo lui, sarebbe impensabile non avere rapporto con il Presidente, cioè è follia, quindi il Presidente le cose che dice a voi le ha dette a me, anzi a me dice pure di più, quindi mi auguro. E quindi c'è la massima... ma io non ho bisogno di essere assicurato, non godo di nessuna campana di vetro, vero giudicato sempre soltanto per risultati, ma come tutti, ovviamente, giustamente, ma questo non incide né con il rapporto del Presidente, né con te mi auguro, se vinco rimango, se perdo me devo andare, ovvio. Insomma la squadra è partita fortissimo, anche con obiettivi abbastanza dichiarati, di voler fare un campione di vertice, così come sta facendo, ha giocatori molto bravi in fase offensiva, di gamba, una fase difensiva buona, quindi prende pochi gol, altrimenti non va in alto a classifica, se non funziona un po' tutto, quindi abbiamo un massimo rispetto dell'Ascoli, però comunque andiamo a giocarci dalla grande. Quando saremo portati a difendere, è chiaro che dovremmo farlo con tutti gli uomini, non possiamo pensare di perdere nessuno, è chiaro che nel momento in cui si riconquista palla più siamo veloci a ripartire con la squadra avversaria aperta e più avremo possibilità di fargli male, mi auguro, quindi questa potrebbe essere una delle chiavi della partita.